C'è stato questo cumulo pene per i fatti commessi nel passato, quindi parliamo del 2000, 2001, 2002, quindi un cumulo pene che è arrivato a 8 anni di reclusione e lui ne deve scontare 4-5, 4 anni, quindi 11 mesi e 4 giorni, quindi con contande, con penna definitiva, passate in giudicato. Quanto è di preciso? 4-11 e 4 giorni. Il resto era già pressofferto, giusto? Pressofferto e indulto. Io non ho fatto quasi niente, perché la rola che va... Beh no, ci sono restissimamente. I contande ci sono perché altrimenti veramente... Quindi ci siamo portati... Ci siamo portati quindi presso il magazzino per eseguire questo obiettivo di cacerazione e quindi mentre eravamo lì abbiamo notato del materiale, delle merci con macchie contraffanti. Per cui abbiamo richiesto con l'uncenza la perquisizione con il contestuale sequestro al pubblico ministero di turno. Ci è stata accordata e ha messo un provvedimento invegliato e quindi abbiamo sottoposto la perquisizione in intero magazzino. Rinvenendo... Grazie. Grazie.